Comperato per sbaglio un filo per saldare con stagno al 25% dai cinesi e non avendo a disposizione un lanciafiamme ho deciso di riciclare la colofonia compresa nel kit facendoci del flussante fai da te, misciolandola con del normale alcol etilico denaturato. Per testare il tutto ho provato a dissaldare un tubo di rame utilizzando una pistola a caldo ed il flussante fatto in casa. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.